Pronto Gabri? Ma dove sei? Guarda che riempiamo! Ma cosa ci fai qui? I bambini ci aspettano in Orange Games, brigati! Basta con queste zoom! Oggi si ricomincia! Ciao Fede! Ti ricordi che oggi è tu alle 10, vero? Ah, bene! Sì, pronto? Sì, ciao Fede! Sei pronto allora? Mi raccomando ricordati che oggi ricominciamo! Ciao Fede! Ciao Fede! Non posso dimenticare lo spuntino! Ciao Fede! Ciao Fede! Ciao Fede! Noi siamo pronti, vi aspettiamo! Ciao Fede! Ciao Fede! Ciao Fede! Ciao Fede! Ciao Fede! Ciao Fede! Ciao Fede!